diritti d'autore instagram la coppia conferma che va tutto a gonfie vele con l'uscita per la settimana della moda e le foto sui social se ancora ci fossero dubbi sulla storia fra belen rodriguez e andrea jannone basterebbero a fugarli le foto degli ultimi giorni private e pubbliche l'amore fra la showgirl e il centauro va più forte che mai complice la settimana milanese della moda donna belen jannone si sono presentati insieme al party di anna dello russo di sabato sera cappotto per lei a coprire un abito che si intravede rosso e con lo spacco la borsa è arcobaleno scelta di tanta moda vista in passerella non è però solo questa foto pubblica confermare l'amore fra i due top story slash girl ha postato sul suo profilo instagram un'immagine di lei abbracciata al pilota la didascalia dice proteggimi sempre anche lui a san valentino aveva postato un messaggio d'amore per belen insomma le burrasche del passato sembrano molto lontane lo scorso novembre la storia tra i due sembrava al capolinea lui avrebbe voluto sposarla dicevano i gossip e lei proprio non voleva dopo il matrimonio con il ballerino stefano de martino da cui è nato il figlio santiago in un'intervista doppia rilasciata a riders magazine la coppia ha confermato invece di non essersi mai lasciata andrea non ha mai mollato mai quando è iniziata la nostra storia vivevo un periodo complesso e lui è saputo entrare nella mia vita sapendo anche quando esserci e quando aspettare più di una volta ho pensato che se ne sarebbe andato invece da quando mi ha conosciuta è sempre rimasto lì e pare starci stabilmente